Musica Benvenuti al Medico a casa tua, oggi parliamo di oculistica ai bambini, lo facciamo con il dottor Giuliano Stramare che è direttore dell'unità semplice di oftalmologia pediatrica dell'oculistica dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, allora dottore intanto come si può capire che un bambino ha problemi di vista? I sintomi che possono indurre a un sospetto difetto di vista cambiano a seconda dell'età del bambino, la prima valutazione che di solito è a carico del pediatra o del pediatra ospedaliero al momento della dimissione dopo il parto o del pediatra domiciliare di casa, possono essere dettati o dalla presenza di una iperlacrimazione persistente, dalla comparsa di un improvviso strabismo, ricordando però che lievi forme di strabismo sono assolutamente compatibili nei primi sei mesi di vita di un bambino, dalla tendenza del bambino a strizzare spesso gli occhi, inoltre è molto importante avere un raccordo anamnestico perché molti difetti di vista possono avere un certo grado di familiarità per cui in caso di anamnesi positiva per difetti visivi dei genitori o dei fratelli maggiori ovviamente è sempre necessario opporre un sospetto anche per il bambino in esame. Quindi la storia familiare ha la sua importanza? Sicuramente la sua importanza anche se non deve essere l'unico oggetto di studio nel determinare se vi sono fattori di rischio o meno, perché situazioni particolari alla nascita, quali prematurità, infezioni connatali, parlo ad esempio delle infezioni da toxoplasma, da citomegalovirus, contratte della mamma in gravidanza, febbre improvvise, sono tutti elementi che possono comunque alzare il livello d'allarme e richiedere una precoce visita curistica. Ecco in particolare lei si occupa anche dei bambini prematuri nati prima del termine che possono veramente a livello di vista presentare delle problematiche sulle quali intervenire precocemente così. Sì, negli ultimi anni c'è stato un grandissimo miglioramento nelle terapie dei bambini prematuri, questo però ha portato anche a una maggiore incidenza dei problemi legati alla prematurità. Noi sappiamo che un grave prematuro può avere delle complicanze oculari, soprattutto delle complicanze retiniche, che se non diagnosticate per tempo, se non valutate per tempo e non trattate di conseguenza possono portare degli esiti gravissimi, anche proprio alla perdita assoluta della capacità visiva. E allora come intervenite? Beh, vi è una sorviglianza messa in atto già nei reparti di terapia intensiva, una sorviglianza oculare dettata da delle regole precise, da dei follow up precisi, in cui i pazienti a rischio, vale a dire che i bambini prematuri, gravi prematuri, indicati sia come settimana di nascita che come peso alla nascita e sottoposti soprattutto a terapia con ossigeno, vengono controllati periodicamente. Nella nostra struttura, più che questa sorveglianza che non facciamo perché non abbiamo la terapia intensiva pediatrica presso questo ospedale, siamo specializzati nel trattamento chirurgico delle gravi forme di retinopatia, questo grazie al mio primario, la dottoressa Pertile che si occupa in particolar modo di chirurgia retinica e quindi siamo in grado di valutare e trattare chirurgicamente i neonati prematuri che ci vengono inviati da tutta Italia. Ecco, quindi è un punto un po' di riferimento per questo tipo di intervento. Sì, per la chirurgia dei casi complessi. Ecco, andando invece sui casi più generali, di solito appunto dopo la nascita il bambino quando deve essere visitato dall'oculista per avere un controllo ottimale nella fase della crescita? Allora, è ormai opinione comune nel mondo dell'oftalmologia pediatrica indicare come obbligatoria o quantomeno altamente consigliabile una prima visita verso i tre anni, all'inizio cioè dell'asilo, della scuola materna. Questo salvo fattori di rischio come quelli che abbiamo indicato precedentemente, questo è ovvio. Ricordo che una visita oculistica è possibile che venga eseguita a qualsiasi età, anche al giorno della nascita stessa. In assenza di fattori, dicevo, di rischio, la prima visita andrebbe eseguita da un oculista, possibilmente da un oculista specialista in oftalmologia pediatrica al terzo anno di vita. È importante che in questa visita vengano utilizzati i colliri necessari a una visita pediatrica che non sono i colliri utilizzati nell'adulto, sono colliri molto più forti, molto più particolari e che solo tramite di essi ci è permesso valutare eventuali difetti di vista nascosti, in effetti di vista cioè che la muscolatura tenace e importante di un bambino riesce talvolta a nascosti. Ci spieghi come fa a visitare un bambino piccolo, io parlo di un bambino di pochi mesi che non le può dire ci vedo, non ci vedo, come si fa a visitare un bambino piccolo? È forse la sfida più interessante dell'oftalmologo pediatra. Noi abbiamo due metri di giudizio, una valutazione prettamente anatomica che tutto sommato è abbastanza semplice da fare, è sufficiente tenere fermo il bambino. Sulla struttura dell'occhio insomma. Sulla struttura dell'occhio, sulla composizione delle sue parti anatomiche, sulla validità delle sue parti anatomiche, un bambino piccolo lo si tiene fermo facilmente e quindi è facile fare questo, la difficoltà invece è la misurazione dell'aspetto funzionale, riuscire a capire se un bambino ci vede, quanto ci vede, come ci vede è una sfida molto più interessante. Un bambino ovviamente piccolo, in età preverbale, non è in grado di dare delle risposte se è stimolato con dei simboli facili, questo è possibile farlo solo dopo i famosi tre anni e quindi ci basiamo molto sulle sue reazioni emotive, sul suo comportamento, sulla capacità o meno di suscitare in lui una reazione positiva o negativa presentandogli degli stimoli particolari. Io viaggio, io visito tutti i miei ambulatori con piccoli oggettini come questo, non so se si possa vedere, o simili a questo, tutti noi ce ne abbiamo, per richiamare l'attenzione del bambino. Altre volte posso fare una cosa molto più spiacevole, posso stimolarlo con una luce molto forte, in questo caso non valuto più la reazione positiva, valuto la reazione negativa, ma che è anch'essa molto importante. Deve riuscire a stabilire un contatto? Devo riuscire a stabilire un contatto, un rapporto, devo riuscire a far capire ai genitori che devo stabilire un contatto e un rapporto, spesso la difficoltà è anche la gestione del bambino e dei genitori assieme, perché bisogna entrare nell'intimità del nucleo familiare, conquistarsi, talvolta in poco tempo, la fiducia del bambino e sulla base di questa riuscire a ottenere le famose informazioni necessarie. Talvolta ce la facciamo alla prima visita, talvolta no, ed è quindi necessario far tornare il bambino altre volte. Allora, vediamo alcuni test per valutare la vista dei bambini in questo contributo che abbiamo preparato. Allora, Filippo, controlliamo un po' la vista, leggiamo qualche lettera? Bene. D. Questa? O. Sei sicuro? Guardala bene. C. C, bravissimo. E P. E P, molto bene. Abbiamo misurato la capacità visiva con il test del lettere. In base all'età del bambino che visitiamo ci sono metodiche diverse. Se abbiamo bambini chiaramente al di sotto dei sei anni, quando non hanno ancora imparato tutte le lettere, ci sono degli altri test che ci consentono comunque di poter misurare la capacità visiva. Uno di questi è il test delle di Albini, dove il bambino deve indicare con la mano l'orientamento dei vari simboli. Un altro test per i bambini più piccoli tra i due e i quattro anni è il test con le figure o questi simboli, oppure le figurine di Pikachu, quindi un figuro molto semplice che un bambino più piccolo possa essere in grado di riconoscere. In questo caso il bambino o dice la singola figura, oppure ha in mano un foglio con gli stessi simboli e va a indicare il simbolo corrispondente. Guarda bene il naso del tagliaccio. Guardalo bene. Bravissimo. Molto bene. Stiamo eseguendo la valutazione ortottica. Ora guardiamo l'immagine. Guarda bene questo gatto. Bravissimo. Filippo è molto bravo. La sua età ovviamente ci facilita il lavoro. Quando i bambini sono più piccoli ovviamente dobbiamo interagire con loro come se fosse un gioco. Guarda bene qua. Seguila bene. Bravissimo. Da questa parte. Ottimo. Giù in basso. Bravo. Seguila bene. Seguila bene. Bravissimo. Ottimo. Molto bene, Filippo. Guardiamo ora questa. Valutiamo ora la stereopsi, il senso della profondità. Vedi delle figure? Cosa vedi? Una macchina. Bravissimo. Per i bambini sempre piccoli o quando sono meno collaboranti abbiamo degli strumenti portatili. Questo per esempio è un autorefrottometro portatile che serve per misurare il difetto di vista. Il fatto che sia proprio portatile ci consente di approcciarci al bambino in modo adeguato senza spaventarlo o traumatizzarlo. Questa è una cassetta a lenti per provare l'occhiale sul paziente e valutare quindi quale possa essere la lente migliore per correggere il difetto di vista. Sempre per i bambini più piccoli abbiamo un formato ridotto che ci consente proprio di utilizzare al meglio le lenti anche nei più piccolini. Per i bambini più piccoli dai 6 mesi fino ai 2 anni, quando non sono ancora in grado di eseguire le figurine del pigasù, utilizziamo il test di Teller o Teller Atacuity Cards. In base all'età, alla distanza e alla tavola raggiunta quantifichiamo la capacità visiva. Ci sono questi stimoli a forte contrasto con queste righe bianche e nere e il bambino dirige lo sguardo verso lo stimolo strutturato. Questa è una metodica semplice e rapida che ci consente di vedere se ci sono alterazioni della capacità visiva. Uno dei problemi più diffusi è senz'altro quello della miopia nei bambini. Una miopia che poi progredisce o che si può fermare in qualche modo? La miopia è l'argomento più interessante perché la miopia è sempre più diffusa. I dati statistici epidemiologici indicano che nel mondo occidentale o in genere nel mondo industrializzato l'incidenza della miopia è in costante aumento. Da anni se ne sta studiando il perché. Si cerca prima di capirne le cause, anche perché capendo nelle cause potremmo anche capire se vi sono o meno dei metodi per fermare questa miopia. È molto probabile, quantomeno è statisticamente significativo l'impatto che la costante attività per vicino, quindi non parlo solo dello studio ma parlo anche dell'attività ludica con i videogiochi, i telefonini e tutti quei device che al giorno d'oggi sono diffusi nelle famiglie. La costante esposizione e la luce artificiale rispetto alla luce naturale possono giocare un ruolo importante e determinante nell'insorgenza o nella progressione di una miopia. Esistono anche dei fattori genetici, familiari, ma non hanno un valore così importante, quantomeno nelle miopie medio lievi. Una categoria a parte sono le miopie gravi di origine prettamente genetica, dove invece il fattore ambientale è di scarsa importanza, però incidono meno in termini di presenza nella popolazione. La sfida che è stata portata avanti in questi anni, l'obiettivo che molti studi hanno portato avanti in questi anni è stato proprio quello di riuscire a ridurre la progressione di una miopia. Ne sono stati scritte di tutte, ne sono state dette di tutte, il più delle volte purtroppo in maniera erronea. Dobbiamo dire con un po' di amarezza che i miopi rappresentano anche un mercato e quindi il poter trovare una cura alla miopia è anche un vantaggio economico per chi potesse trovarla. Forse prima di dire cosa si può fare si può dire quello che non si deve fare. Innanzitutto non ci sono ginnastiche miracolose, non funzionano tutti quei metodi strani messi in atto, guarda caso, solo a pagamento da non medici, da non specialisti, ma da personaggi che cercano un pochino di trovare delle cure miracolose. Lo dico perché purtroppo sempre più volte mi trovo di fronte a bambini che hanno fatto mesi, anni di ginnastiche assolutamente inutili, prive di qualsiasi senso. E che magari ha faticato comunque l'occhio o non ha reso benefici? Allora, più delle volte fortunatamente non hanno nemmeno provocato dei danni. Certo è che hanno faticato il bambino. Se io sottopongo un bambino delle ginnastiche inutili, ma lo faccio una volta a settimana, due volte a settimana, a settimana gli crea uno stress, crea uno stress alla famiglia, crea un danno economico alla famiglia, che sarà sicuramente di secondaria importanza rispetto al danno biologico, ma anche esso importante. Non è vero che le lenti a contatto bloccano la miopia, lo dico perché è un'altra leggenda metropolitana che spesso si sente. Negli ultimi anni è stata lanciata la moda delle lenti a contatto notturne, esistono degli studi anche a riguardo, che in effetti talvolta possono ridurre la progressione della miopia, ma non siamo in grado di misurare quanto e soprattutto siamo in grado di dire che il rischio di effetti collaterali di questa terapia sono superiori al vantaggio di dare una blanda riduzione della miopia. Solo ultimamente c'è stato un consenso unanime nell'individuare una terapia con atropina diluita in collirio, un semplicissimo collirio che instillato per tutti i giorni, per circa due anni, ha dimostrato studi statistici alla mano una riduzione della progressione della miopia. Non abbiamo trovato la cura della miopia, dobbiamo stare attenti, non è questa la panacea di tutti i mali miopici, però sicuramente abbiamo una possibilità che solo in questi ultimi mesi, solo in quest'ultimo anno si sta rendendo evidente nel poter dare un'opzione in più ai genitori di un bambino. Ma questo a livello sperimentale o è già utilizzato? Allora la sperimentazione è finita, è finita da tempo, non c'è però ancora in commercio questo tipo di collirio, se non in rare farmazie che lo preparano in maniera estemporanea, non esiste ancora il prodotto in commercio, è solo questione però di tempo. Senta, ma quando è bene per i bambini portare gli occhiali oppure non portarli? Insomma anche su questo si sente un dibattito? Si sente un po' di tutto, talvolta si dice che portando troppo un occhiale il bambino si abitua e peggiora, altre volte si sente dire che portandolo poco il bambino si stanca e peggiora, sono due ragioni metropolitane, una l'opposta dell'altra. Allora dipende dal difetto di vista, non esiste una regola univoca, ci sono delle forme di patologia oculare in cui il porto dell'occhiale è rigorosissimo, in cui l'occhiale deve essere sempre portato, faccio riferimento ad esempio alle forme di danno visivo associate ad alcuni tipi di strabismo, in cui l'uso dell'occhiale non serve soltanto a far vedere meglio il bambino, ma serve proprio a ridurre, a contrastare questo strabismo. Altre volte l'uso dell'occhiale può essere non così intenso e frequente, dipende dall'entità del difetto e quindi solo la visita oculistica e soprattutto il follow up, ricordiamoci che il bambino non è un giovane adulto, l'errore che talvolta viene fatto è considerare un bambino con lo stesso metro di giudizio con cui io valuto un adulto, se io valuto un adulto e trovo un difetto di vista so che quel difetto è il medesimo fra un anno, fra due anni, nel bambino tutto questo non è vero, come un bambino può cambiare taglia di scarpe, di vestiti in pochi mesi, può cambiare anche gradazione degli occhiali in pochi mesi, non è cosa rara, non è cosa infrequente vedere bambini che cambiano 3-4 paia di gradazioni di occhiali in un anno, può essere un motivo di panico per i genitori, non lo è, non deve esserlo assolutamente, per lo stesso motivo per cui non è motivo di preoccupazione cambiare 4 volte taglia dei vestiti in un anno. Senta, il rischio di traumi nei bambini, perché spesso giocando così a volte c'è il rischio che si facciano male a un occhio, ecco, in questi casi quali sono i consigli che possiamo dare? Allora, il trauma grave non è così frequente. Per fortuna. La struttura anatomica che accoglie il bulbo oculare, cioè l'orbita, non è stata fatta a caso, ha dei meccanismi di protezione, ha dei sistemi volti a prevenire che un danno contusivo possa provocare delle conseguenze gravi. cosa succede sostanzialmente? Che l'arcato orbitale, cioè il margine osseo entro cui è posizionato l'occhio, di per sé attutisce i colpi, per cui cos'è che provoca un danno grave all'occhio? Solo il contatto con un oggetto violento, veloce, le cui dimensioni siano più piccole dell'orbita e l'orbita di un bambino è più piccola di quella di un adulto, per cui una pallonata, una gomitata, una palla di neve col ghiaccio non quasi mai provocano gravi danni. Purtroppo i danni sono provocati da quei piccoli oggetti che non venendo attutiti dall'impatto con l'osso, scaricano tutta la loro energia nell'occhio. In questo caso noi riconosciamo due tipi di danno, un trauma, un danno a bulbo aperto e un trauma, un danno a bulbo chiuso. Il primo fa riferimento al contatto con oggetti appuntiti e taglienti che provocano una vera e propria lacerazione nei tessuti oculari, sono i più gravi. La chirurgia ha fatto… In questo caso la chirurgia che ha fatto passi da gigante è l'unica opzione terapeutica possibile. Deve essere messo in atto, deve essere messo in atto precocemente, deve intercorrere il minor tempo possibile tra l'evento traumatico e l'atto chirurgico. Per che motivo? Primo perché tutto ciò che entra dentro un occhio non è pulito. L'occhio è un ambiente sterile nel suo interno. L'infezione è la conseguenza più drammatica di un trauma che provoca una lacerazione di tessuti oculari. Secondo perché la prognosi è tanto migliore quanto più precoce l'atto operatorio, si assistono a minori complicanze successive. Nel caso invece del trauma bulbo chiuso il danno è determinato dal schiacciamento del bulbo oculare e successivamente dal suo rilascio. Questo movimento elastico fa sì che i tessuti all'interno subiscono un'attrazione che può provocare delle conseguenze. In questo caso, devo essere onesto, il più delle volte non gravi, transitori e risolvibili anche spontaneamente, quindi mettendo in atto solo il monitoraggio clinico. Altre volte invece con delle conseguenze un po' più drammatiche, anche chirurgiche come gestione. In chiusura, perché ormai il tempo è passato, quali buoni consigli possiamo dare per tutelare la vista che è un bene così grande? Innanzitutto fare le visite ai tre anni, sottoporre tutti i bambini a una visita oculistica completa all'età dei tre anni, salvo i fattori di rischio. Non sempre questo consiglio che noi oculisti diamo viene accolto e questo può portare a identificare dei difetti visivi che se fossero stati visti per tempo sarebbero stati facilmente risolvibili e che se vengono visti troppo tardi, e troppo tardi da già i 5-6 anni, purtroppo sono irrisolvibili. Quindi mettere in atto questo monitoraggio è importante. È vero che spesso ci scontriamo con i tempi d'attesa, con le liste d'attesa. Una prima visita oculistica talvolta ha più di un anno d'attesa e mi rendo conto di questo problema. È altrettanto vero che abbiamo due o tre anni di tempo per poterla prenotare, quindi organizzandoci per tempo è fattibile questa cosa. Nella speranza che diminuiscano le liste d'attesa è meglio prenotare un anno prima. Però non possiamo aspettare che ciò accada. Le politiche sanitarie regionali stanno facendo tanto per poter ridurre i tempi d'attesa. Ricordiamoci che comunque il pediatra ha in mano l'arma delle priorità in caso di forte sospetto. Il nostro problema però è identificare il bambino con un danno visivo in cui non vi sia il forte sospetto. Certo, allora grazie per questi consigli preziosi. Di nulla. Grazie a dottor Stramare e noi con il medico a casa tua ci vediamo alla prossima puntata. Dottor Stramare e noi con la prossima puntata.